... Ogni volta che mi sono simbolicamente ginocchiato in questo luogo di dolore, di ricordo rinnovato, il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un odio così bestiale e inumano. Io credo che le parole in questo caso servano veramente a poco. Sono i gesti, quello che contano quando si viene in questo luogo di memoria, di ricordo, ma anche un luogo di monito per il futuro. Non è la prima volta che io lo visito, la prima volta che l'ho ricordato prima. L'ho visitato quando sono venuto 25 anni fa con la mia famiglia. L'ho visitato poi in altre occasioni in visita istituzionale, ma il sentimento che si prova tutte le volte è sempre un sentimento nuovo, di dolore, di partecipazione, di vicinanza, si rinnova nella stessa identica maniera tutte le volte che si guardano quelle immagini, che si respira questo sentimento, perché lo si respira tutte le volte che simbolicamente ci si inchina alla memoria di chi non c'è più e alla barbarie della Shoah.